Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con guanciale crema di piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, guanciale, piselli, scalogno, olio, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il guanciale ed azionare il bimbi per 5 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità soft. Mettere da parte. Senza lavare il boccale mettere lo scalogno e lo facciamo gritare per 3 secondi a velocità 7. Rienire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio e insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Rienire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pisellini ed insaporire per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il pepe, il sale. E' da azionare il bimbi per 18 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere da parte due cucchiai di piselli e frullare per un minuto da velocità 4 a velocità 7. Trasferire la ciotola con la pasta e condirla con guanciali e piselli interi. Pasta con guanciale e crema di piselli. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!